Open bar. Open bar, bar aperto. Non lo so. No, no, non lo voglio neanche sapere. Cosa fanno questo bar aperto? Questi bar aperti li fanno praticamente tavola calda. Open bar? Beh, questo non lo so proprio. L'open bar? L'open bar. È un bar aperto, l'open bar. È un bar aperto. Sono quei bar che si può bere, mangiare, parlare. Possono fare musica, possono fare panini, berreria.